Oggi volevo fare questo video per rispondere a un utente youtube che mi ha chiesto come fare per migliorarsi nel senso mi ha detto io da qualche mese sto seguendo i tuoi video ho imparato partivo da zero e sto riuscendo a ripristinare discretamente i bolli però mi manca la rifinitura finale cioè il bollo sembra rifinito correttamente quando lo vedo poi bene da lontano non sono soddisfatto del lavoro che ho fatto cioè mi sembra un lavoro non terminato come si deve come devo fare mi spieghi se hai dei corsi attivi per migliorare o meno allora il discorso molto semplice che i corsi sono sono attivi e ne esistono di tre tipi uno che sarà attivo da poco online sto finendo di editarlo ed è un corso sulle ventose quindi per riparare i bolli unicamente con ventosa con la caldo e con i due tipi di estrattore a pinza e abbattitorio è un corso che costa relativamente poco rispetto agli altri e ed è rivolto agli hobbisti ai detailer e ai carrozzieri che vogliono riparare velocemente i bolli da grandi trovate il programma sotto sotto gli ultimi video che ho pubblicato c'è poi il corso da due giorni il corso da cinque giorni in realtà il corso che che si sta si sta vendendo di più è quello da cinque giorni suddiviso in questo modo due giorni un mese di pratica individuale almeno e dopo almeno un mese di pratica eventualmente tre giorni in più e pagamento dei tre giorni in più di perfezionamento molti mi avete chiesto in due giorni ce la faccio imparare allora questo corso è rivolto è rivolto principalmente a detailer e a carrozzieri non a chi non ha mai provato a riparare bolli da grandi che comunque si è già cimentato nelle riparazioni in due giorni vede teoria e pratica ovviamente fatta da me qualcosina fa anche lo studente ma la pratica viene essenzialmente svolta da me avendo questi parametri su cui poi ragionare e su cui poi lavorare ed esercitarsi nel tempo si migliora però si parte già da delle basi corrette cioè non si va per tentativi non si dice io sono principiante prova a lavorare così e vedo come viene il lavoro prova a mettere la lampada in questo modo e vedo che vedo i risultati che ottengo un altro cliente mi dice io sono levabolli praticamente nei cofani anche in alcuni punti vicino al vetro dove non passo non c'è problema faccio un buco e passo con la leva non è un modo secondo me di lavorare cioè faccio un buco poi metto un tappino e consegno la macchina così al cliente non non è un sistema di fare di fare il levabolli cioè le macchine hanno i passaggi per utilizzare le leve dove non si utilizzano le leve ovviamente si può utilizzare il sistema delle ventosio addirittura l'induzione però forare la lamiera specialmente su una macchina nuova che ha un certo valore non è non è un lavoro secondo me da fare e quindi anche in quel caso un levabolli esperto e qui è un'altra precisazione che vorrei fare c'è un principiante e un autodidatta impara può imparare vedendo vedendo i video però finché non vede levabolli esperti che lavorano non diventerà mai un levabolli esperto non farà mai una finitura completa della vettura se siete carrozzieri potete provare a imparare da autodidatti e poi quando periodicamente arrivano i levabolli automaticamente vedete come lavorano e correggete in automatico gli errori che state facendo quindi un carrozziere potrebbe anche non avere bisogno di istruzioni sia tanti levabolli che periodicamente vanno riparare le macchine e fanno vedere come lavorano però è vero che può non aver bisogno di un'istruzione quindi un corso però questo procedimento richiede tanto tempo quindi il corso è rivolto a chi vuole imparare vedere da un levabolli esperto come si eseguono le lavorazioni e ovviamente ridurre i tempi di apprendimento quindi imparare presto e imparare bene qui non sto facendo pubblicità a un'agenzia a una società di riparazione auto qualche levabolle qualche carrozziere capirà che faccio riferimento però bisogna c'è chi vuole imparare presto e chi vuole imparare bene il consiglio è faccia dei corsi da me o anche da altri levabolli non ci sono solo io che faccio corsi il corso a due giorni come si svolge c'è una parte di teoria e c'è una parte di pratica il corso sul sia sulle leve e sia sulle ventose avendo ovviamente dei parametri su come va impostato il lavoro come vanno impostate le lampade come aveva impostato l'operatore in base alle lampade come si passa con le leve dove si passa quanta forza usare e come vedere quanta forza si sta facendo quando si capisce anche con le ventose quanto a quello usare come deve essere il materiale come deve essere preparato il materiale prima di usare le ventose e altre accortezze che vanno che vanno tenute presente quindi quando si hanno tutte queste nozioni e poi solo questione di tempo però il tempo serve a impratichirsi sulle nozioni di teoria e pratica già viste cioè si è visto un procedimento di lavorazione corretto ci andrà poi del tempo ad imitarlo però sarà solo questione di tempo se invece si lavora per conto proprio il tempo aumenterà notevolmente e la lavorazione il più delle volte non sarà una lavorazione ottimale quindi il consiglio è vedete 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 il corso più che altro il programma del corso di due giorni al link che vi ho lasciato qua sotto quindi su questo su questo su questo sito se avete domande o se non volete fare il corso ma vi serve soltanto qualche consulenza contattatemi contattatemi o nei link che vedete sotto il video o tramite whatsapp o tramite mail o c'è anche un recapio telefonico se invece siete compagnie assicurative che volete sapere se la vostra se la vettura dei vostri clienti può essere salvata cioè riparata freddo senza l'intervento della carrozzeria quindi se volete sapere se potete risparmiare fino al 70 per cento rispetto al prezzo che vi farebbe la carrozzeria quindi al costo che dovreste sostenere contattatemi ripeto ai link che vedete in descrizione il più delle volte le lavorazioni le faccio io molte volte le fanno i miei collaboratori quindi contattatemi per sapere se potete risparmiare se invece siete dei privati assicurati contro gli eventi atmosferici e quindi contro la grandine avete preso per dire la grandinata del 13 luglio qua a torino in molti casi le macchine del 13 luglio si salvano senza bisogno di riverniciatura quindi se siete se siete privati assicurati e avete una franchigia da pagare volete sapere come risparmiare i soldi della franchigia e avere una vettura ripristinata allo stato originale in poco tempo senza spendere una lira l'importante ovviamente che la vettura sia assicurata contattatemi per valutare insieme la riparazione tenete conto che il più delle volte la riparazione richiede massimo due giorni di lavoro se avete bisogno della macchina sostitutiva c'è la possibilità di avere anche la macchina sostitutiva fattura se l'assicurazione vi è già rimborsato a voi diversamente fattura all'assicurazione quindi se avete una macchina grandinata sia in lamiera sia in alluminio grandine ripeto del 13 luglio che è una grandine brutta comunque non una grandine leggera contattatemi per valutare insieme la riparazione per cercare di spendere il meno possibile se video di questo tipo vi sono utili fatemelo sapere ovviamente condividete se avete domande scrivetele scrivetele nei commenti scrivetele in descrizione ci vediamo nei prossimi video e un suggerimento nei video precedenti ci sono delle ci sono sono mostrate delle riparazioni che si possono fare sulle vetture grandinate per sapere per sapere come si riparano le vetture senza riverniciare quindi per farvi un'idea su quello che questo tipo di lavoro questo tipo di riparazione guardate i video un grazie e un arrivederci nei prossimi video